L'avvertenza Intex è ancora una volta sul tavolo della regione, l'attenzione dell'assessore Febbo, non ci sono evoluzioni, è vero? No, è esattamente ferma, almeno un anno fa non ci sono sviluppi, ricordiamo che era stato detto che le prime assunzioni ci sarebbero state a Natale, passato e in realtà non è stato nessun ricercatore ancora ricollocato attraverso il percorso della spesa economica. Ecco, ci spiega meglio che significa questo ultimo percorso e soprattutto quale vi aspettate che sia il ruolo della regione, perché spesso ci si rivolge alle istituzioni, ma sappiamo che possono in molti casi fare ben poco. Qui il ruolo della regione in questo caso è un ruolo chiave perché la regione Abruzzo ha investito 10 milioni di euro sulla spesa economica e questo investimento è stato pianificato già con il governo precedente e poi concretizzato con questo governo regionale e all'interno di questo investimento così cospicuo era previsto anche la soluzione alla vertenza dei lavoratori Intex, perché i ricercatori Intex possono facilmente essere ricollocati nel settore dell'aerospazio, che è proprio il settore che ha beneficiato di questo finanziamento di 10 milioni sulla spesa economica. Risposte da parte dell'assessore? Allora l'assessore ovviamente ci ha posto un paio di criticità, la prima è che c'è stato un cambio al vertice nella tale Salemia Space Italia, che è la capofila di questo percorso legato alla spesa economica in Abruzzo. Il secondo punto chiaramente è quello del Covid, quindi ci sono a detta dell'assessore dei rallentamenti imputabili in parte anche a questi temi, però noi riteniamo che sia proprio importante che la regione possa svolgere un ruolo conclusivo per concretizzare la soluzione di questa vertenza. Grazie.